Bene, buonasera a tutti. Presentiamo oggi il libro di Flavia Cristaldi, come il gelso per la vite, edito da Tarka Edizioni. Io credo di poter dire che questo libro si leghi strettamente da un lato a quello che è stato il rapporto scientifico che io e Flavia nel corso del tempo abbiamo intrecciato, pur professando discipline diverse. Io sono una storica dell'età contemporanea, Flavia è una geografa, ma soprattutto questo libro, Flavia consentimi di dirlo, si lega anche all'amicizia che coltiviamo ormai da qualche decennio e quindi mi fa molto piacere partecipare alla presentazione di questo volume, che è un volume scritto con un registro narrativo di un romanzo, ma in cui saperi diversi si intrecciano e vi fanno da sfondo. C'è una vicenda che domina, una vicenda storica che è quella dell'emigrazione trentina, di cui poi vi parleranno meglio coloro che interverranno dopo di me, che vede spostamenti tra gli ultimi decenni dell'ottocento e la fine degli anni trenta e inizi degli anni quaranta, di alcune comunità trentine, prima in Bosnia e poi nell'Agro Pontino. È una vicenda questa che a lungo è rimasta ristretta nei libri di storia, soprattutto di studiosi locali e non è entrata nei grandi affreschi ricostruttivi della emigrazione italiana. Non vi è entrata perché sino al 1918 il Trentino era un territorio facente parte dell'impero asburgico, quindi tradizionalmente considerato, se non proprio estraneo, quantomeno esterno alla nostra storia nazionale. E questo avviene non soltanto per un tema come l'emigrazione trentina, ma per chi voglia proprio studiare alcuni sviluppi di queste zone, si ritrovano scarsamente presenti nei libri che invece ricostruiscono le vicende della nostra storia nazionale, almeno fino al 1918. Quella dell'emigrazione trentina è una vicenda quindi che non solo Flavia ha sdoganato, per così dire, da qualche scaffale di una biblioteca, ma ha anche dato a questa vicenda una veste di carattere letterario. In questo volume infatti non c'è soltanto la grande storia che si intreccia con le storie più piccole, con le storie degli individui, ma ci sono anche tutta una serie di riferimenti di carattere geografico che appaiono sfumati, anche questi potremmo dire come la vicenda storica sullo sfondo, e che vengono trattati con leggerezza, in un certo qual senso come si addice a un romanzo, ma questo non significa che non vengano descritti in maniera molto rigorosa. C'è un'immagine che mi ha molto colpito, è un'immagine che si trova nelle prime pagine di questo romanzo ed è quella della coppia del Mezzogiorno. questa coppia che si abbraccia talmente stretta che la loro ombra sparisce così come sparisce l'ombra quando il sole è a mezzogiorno. È un fenomeno astronomico questo che Shavia richiama, ma che lei traduce in una forma poetica. Del resto, lo sappiamo, penso un po' tutti, Flavia non è nuova a offrire immagini poetiche per fenomeni fisici. Penso ad esempio alla raccolta la poesia della terra, poesia e geografia, una raccolta appunto di poesie uscita qualche anno fa. Dicevo, ciò che domina dal punto di vista storico è la vicenda migratoria, è una vicenda che fa da sfondo ma che riemerge ciclicamente perché ciclicamente i protagonisti di questo romanzo la richiamano e la ritroviamo peraltro anche come ritroviamo la vicenda dell'emigrazione anche non solo diciamo in tutto il romanzo, ma anche simbolicamente rappresentata in questa splendida copertina dove c'è la vite che si marita al gelso, che era una pratica di coltivazione della vite che dal Trentino era stata portata nei paesi della Bosnia ed è un'immagine che non solo richiama la vicenda storica ma rappresenta in un certo qual senso il cuore di questo volume come scopriranno coloro che leggeranno questo romanzo dove tutto scorre sul filo dei ricordi ed è dominato da due figure. Da una parte c'è Zelda, l'anziana nonna che ha vissuto le vicende storiche che nel romanzo vengono raccontate e poi c'è Costanza, la giovane nipote che nonostante un marito e una figlia non riesce a dare una dimensione certa alla sua vita. L'aiuterà in questo proprio sua nonna Zelda che è una figura possente, una figura di donna capace di stringere legami tra le varie donne della sua famiglia, quindi tra le diverse generazioni, ma è anche una matriarca, se così possiamo dire, per la comunità dei Trentini dell'Agro Pontino a cui appartiene. È una donna, come scrive Flavia, che ha conosciuto il dolore e che avendola attraversato è riuscita a trasformare con la sua vita questo dolore in forza e in saggezza. Forza e saggezza che cerca di trasmettere a sua nipote mantenendo però un segreto, un segreto che si scioglierà nel finale di questo romanzo, anni dopo la sua morte, grazie alla visita nel cimitero di Maoliani dove ha voluto essere sepolta, di un'altra donna che appartiene a questa famiglia di donne, se così possiamo dire, che è Giulia, la figlia di Costanza, la pronipote di Zelda. La quale riesce a svelare il segreto che la bisnonna ha portato con sé nella tomba. Riesce a svelare come quel dolore e quella forza nata dall'amore per un uomo creduto perduto siano stati racchiusi in una frase incisa in cirillico su un ciondolo da cui Zelda non si separava mai e su cui c'è scritto per sempre. Una frase che nel suo cuore, nel cuore di Zelda, non aveva mai perso forza coltivata in una pienezza di un sentimento senza fine. Io non vado oltre perché non voglio rubare spazio agli altri intervenuti, voglio solo ringraziare Flavia per aver accolto il mio suggerimento di chiamare Zelda la protagonista di questo romanzo. Zelda era il nome di un'amica di quando mia nonna ester bambina viveva in Trentino. Grazie Flavia per tante emozioni che ci hai regalato nel leggere questo libro. Allora adesso passo la parola a Piero Bevilacqua. grazie Esther. Piero Bevilacqua ha insegnato molto completa e aderente al testo del romanzo. Io devo dire che mi sono trovato di fronte a una matriosca di sorprese, una presa all'altra. La prima è che io ho lasciato alcuni anni fa, in quella che è stata la facoltà di lettere di noi tre della sapienza, si chiamava lettere e filosofia, Flavia Cristaldi, una carissima amica, una bravissima geografa che si occupava di emigrazione, emigrazione territorio, ma soprattutto emigrazione regionale eccetera. Poi certo negli ultimi tempi si era anche occupato degli italiani nel Rio Grande do Sul in Brasile e portarono per mare e andarono per mare a piantare viti del 2015 se non mi sbaglio. Per la verità una visaglia di vocazioni letterarie, l'aveva dato il libro La pianta e le terre, la poesia della terra del 2008, l'ha ricordato la capuzza appunto. però non sospettavo vocazioni romanzesche che invece si sono rivelate anche con efficacia letteraria. Adesso dirò qualcosa nel merito. Naturalmente la sorpresa di carattere scientifico storiografico e questa strana triangolazione migratoria tra il Trentino, tra Aldenno e questo villaggio della Bosnia e poi la diramazione verso il centro Italia, verso la piana pontina. Una pagina sconosciuta alla storia della migrazione italiana. Direi che la storia della migrazione italiana non c'è mai di sorprendere man mano che gli studi avanzano. Negli ultimi anni, sapete, abbiamo scoperto una migrazione non di massa, individuale, molecolare, ma continua, secolare, che ha interessato l'età moderna, l'età medievale e moderna. Gli ultimi studi mostrano questi viaggi degli italiani attraverso i valichi alpini, verso la Francia, la Germania, la Svizzera e perfino il Regno Unito, oppure verso il sud dell'Italia, verso il Nord Africa, attraverso il Mediterraneo. Ogni tanto scopriamo, diciamo, queste piccole, queste frammenti di emigrazione speciali e particolari, ma non meno interessanti. Flavia racconta nella post-fazione al romanzo la maniera avventurosa, il gioco che l'universo ha giocato, un ragazzo, un allievo che cambia tesi e che viene indirizzato ad esaminare carte polverose, però è interessante poi il regalo di una tesi in cui c'è un pezzo di storia già scritto di questa emigrazione. Allora, andando alla materia del libro, direi che c'è una parte epica, che è la parte che riguarda l'emigrazione, gli spostamenti, la parte epica riguarda, è interna la politica da un punto di vista storico, è interna la politica di colonizzazione dell'impero austro-ingarico, che in funzione antiturca richiamava popolazione anche dal nord Italia per creare presidi anche di carattere non solo etnico, ma anche religioso, presidi cattolici e così via. Naturalmente di questa epica fa parte la descrizione delle condizioni di lavoro, la vita durissima che si conduceva, diciamo, in quelle terre tra 8 e 900, una natura selvaggia e desolata da colonizzare lo sforzo davvero eroico dei protagonisti che si avventuravano su queste terre dove c'era da fare tutto. Naturalmente non è solo questo, c'è anche attraverso il racconto dei protagonisti, c'è l'economia del tempo, l'allevamento dei bacchi, ci sono le tradizioni culinarie, le tradizioni alimentari, c'è uno spaccato storico molto aderente, perché Flavia del Desto non è una geografa descrittiva, è sempre stata anche un po' storica, questa sensibilità per la storia si manifesta anche in questa circostanza. e ci sono anche narrazioni di eventi terribili come lo stranipamento dell'Adige, che viene naturalmente raccontata da alcuni testimoni che avevano assistito a questa tragedia. Devo dire che c'è anche un'epica del viaggio, una cifra del romanzo è costituita da questi viaggi in macchina, da questi viaggi in macchina tra Monaco e varie parti d'Italia, in cui Costanza guida e l'autrice ci fa vedere il paesaggio che scorre nel corso del viaggio, ma ci fa ascoltare anche le storie attraverso i dialoghi che si svolgono tra Costanza e gli altri protagonisti. e direi che se ci si fa caso il romanzo riesce a descrivere personaggi, luoghi, paesaggi, caratteri, sempre attraverso i dialoghi, sempre una grande pièce teatrale, ed è un testo che potrebbe essere recitato, rappresentato in teatro, perché sono dialoghi continui e qui c'è, devo dire, una abilità narrativa, un equilibrio notevole e sorprendente da parte dell'autrice, cioè di uno che non è del mestiere. Quindi un romanzo dialogico che però fa vedere sia descrittivamente gli aspetti storici, economici e antropologici, sia attraverso il movimento soprattutto di chi si sposta, il movimento della macchina, sia i personaggi, perché Costanza dialoga soprattutto con la nonna Zelda, dialoga con Nerina, dialoga con altri personaggi, con Domenico che rappresenta un'avventura, poi dirò qualche cosa, un'avventura sentimentale, effimera diciamo e anche deludente, dialoga poco con Andreas, con il marito e attraverso questi dialoghi però viene fuori anche la sua personalità. Una donna che è una affermata professionista, è una ginecologa, vive in una grande città come Monaco, ha un bellissimo attico, un bravo marito con cui è stata felice, ma forse diciamo con lui vive un rapporto logorato dalla routine o dall'eccessivo silenzio del personaggio, che ha anche una figlia, eccetera, eppure è perennemente insoddisfatto, ha dentro un'inquietudine che non riesce a risolvere, che forse risolve nel dialogo con nonna Zelda, che è effettivamente un personaggio gigantesco, che dice, mi ricordo c'è un'espressione all'inizio del romanzo, senza radici, senza radici forti gli alberi cadono a terra. Quindi un legame profondo con la terra, col passato, con la memoria. Ecco, io diciamo ho letto con velocità diciamo questo romanzo, perché proprio il carattere dialettico della forma narrativa lo rende godibilissimo, uno non si fermerebbe, perché ad ogni risposta dell'interlocutore si scopre qualche cosa di nuovo. Quindi una tecnica narrativa felicissima è riuscita. Io ho, diciamo, come è giusto, diciamo, in una presentazione che è fatta quasi tutta di esaltazione e di lodi, fare un paio di osservazioni, senza farla molto lunga. Nonna Zelda è veramente un personaggio di grande interesse, che ha sepolto nel cuore, lo ricordava Esther, è un grande dolore, no, il suo amato non torna dalla guerra, ci muore, e questo la segna per tutta la vita. Poi sposa un altro uomo, il nonno di Costanza, e dice una cosa di grande saggezza, cioè che ad amare si impara, no? Si può imparare ad amare. È una verità profonda, forse difficile da capire, ma è una verità profonda. E tuttavia mi pare, come dire, un personaggio un po' troppo tutto tondo, un po' troppo colto, un po' troppo paradigmatico, no? Quindi qualche debolezza l'avrebbe reso più credibile. E infine, ecco, sempre per concludere sul piano critico, le critiche aiutano naturalmente, perché io immagino che adesso Flavia continuerà a scrivere romanzi, perché ci si prende gusto, glielo posso assicurare che si prende gusto a scrivere romanzi, e anche perché se uno ha capacità di scrittura la tentazione è forte, e Flavia ce l'ha. Diciamo che l'episodio del tradimento, del breve tradimento di Costanza con Domenico, forse meritava una rielaborazione più profonda, no? La riappacificazione con Andreas mi pare un po', come dire, frettolosa e un po' forzata. Andreas che scopre, no, slanci, eccetera, che finalmente esce dal mutismo, che si apre, mi sembra un modo un po' non completamente risolto di, come dire, di passare dalla crisi esistenziale che percorre, no, tutta la, sottilmente, tutto il romanzo a una riappacificazione, ad un abbraccio, non che non fa i conti con le inquietudini precedenti, come se, come dire, insomma, le parole della nonna risolvessero tutto, e questo non mi pare verisimile, diciamo, nell'economia d'un gioconto, tutto qui. Dopodiché complimenti e grazie per averci regalato questo bel lavoro. Chiudo, chiudo il mio audio. Bene, grazie Piero del tuo intervento. Adesso passo la parola al professor Cristiano Giorda. Esther, perdonami, Cristiano, perdonami, mi intrometto, perché c'è Maurizio Tomasi, non so se l'hai chiamato. No, 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 allora scusatemi, è con noi adesso Maurizio Tomasi, che molto gentilmente è riuscito a poter stare con noi in questo momento, ma ha anche degli altri impegni e quindi diamo a lui la parola prima di procedere con gli altri relatori. Maurizio Tomasi è direttore della rivista Trentini nel mondo, che è espressione, diciamo, della omonima società, che è una società che raccoglie i migranti trentini, appunto, sparsi nei diversi continenti e i loro discendenti. è un'associazione che ha una funzione aggregativa e di assistenza con lo scopo di promuovere il senso, diciamo, di appartenenza, di identità culturale che ognuno di noi, e quindi anche i trentini nel mondo, porta con sé e che identità, diciamo, culturale, che poi ritroviamo appieno nel volume di Flavia. Mi fa piacere che Maurizio questa sera sia con noi, perché voglio ricordare l'aiuto prezioso che Maurizio ci diede una decina d'anni fa a me e a Flavia in occasione dell'allestimento di una mostra proprio sull'emigrazione trentina, intitolata, non casualmente, alla ricerca delle radici, dandoci la possibilità di ricevere materiale proveniente da due musei dedicati all'emigrazione trentina, presenti in Brasile, quello di Nova Trento e di Rodeio. a Maurizio ora la parola, che però io non vedo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ma io personalmente non ti vedo. La telecamera è attivata, spero che... Va bene. Io ti vedo, non lo so perché. Allora, intanto chiedo scusa di questa invasione appunto, a questo punto della vostra diretta, ringrazio e la cortesia che mi accordate per appunto potermi inserire in questo momento per poter così poi andare avanti con gli altri impegni del pomeriggio. Ringrazio Esther Capuzzo di questa breve e bellissima presentazione della societazione trentini nel mondo nella quale ha colto molti degli aspetti che caratterizzano questa associazione che tra più di 60 anni si occupa appunto di mantenere i raccordi con gli emigrati trentini e i loro discendenti in diversi paesi. Sono particolarmente felice non per me ma per Flavia che siamo arrivati oggi in questa giornata a presentare il suo libro perché so qual è la gioia che può provare perché ho avuto il privilegio di essere testimone di tanti dei momenti cruciali all'interno di questo percorso che l'ha portata a realizzare questo... a scrivere questo romanzo in più fasi. è arrivato anche in redazione all'associazione quindi ringraziamo di questo omaggio. Flavia è legata molto alle coincidenze, alla sincronicità e credo che questo romanzo, questo suo scritto sia la dimostrazione che lei ha ragione. Insomma, la sincronicità esiste e nella vita di tutti i giorni abbiamo a che fare con questo tipo di realtà. lei sorride perché sa che io sono sempre stato molto scettico invece di fronte a questa sua posizione. Però oggi veramente condivido anche a nome dell'associazione Trentin nel mondo questa sua gioia e appunto sono anche felice di essere stato come dire in qualche modo testimone anche per certi versi fautore di alcuni dei momenti cruciali che hanno portato alla scrittura di questo volume. dall'inizio dello studio che avete fatto assieme sulla legge 379 del 2000 una legge fortemente voluta da Vino Zandonai che è stato per oltre vent'anni direttore dell'associazione Trentini nel mondo poi l'incontro in terra pontina con la realtà della comunità trentina che aveva radici trentine anche in Bosnia e poi questa visita alla terra bosniaca proprio che è venuta nel giugno del 2012. Voglio solo dire una cosa che condivido perfettamente quello che le ultime righe del libro dove dice sono convinta scrive Flavia che la storia dei trentini di Bosnia e dell'agropontino meriti di essere conosciuta. È vero perché è una storia assolutamente del tutto originale questa doppia emigrazione prima all'interno di uno stato come quello multinazionale dell'impero austro-ungarico e poi il rientro in Italia. È una storia che all'interno della storia dell'emigrazione che è così ricca di tantissimi elementi umani unici ha una sua unicità ancora ulteriore per questo doppio spostamento. Quindi ringrazio dell'invito ringrazio di avermi permesso questo ingresso insomma anche magari fuori programma ribadisco la mia gioia che condivido con Flavia e le faccio i complimenti e mi permetto di fare una se ce la faccio una piccola sorpresa se riesco a condividere lo schermo è un'immagine che risale al giugno del 2012 quando c'è stata questa trasferta in Bosnia nella quale si vede Flavia che come dire sta partecipando ad un pranzo comunitario all'interno della comunità di Stivor e credo che il suo sorriso Flavia, se vedete lo schermo è la prima nell'angolo a destra credo che il suo sorriso esprima pienamente la gioia che stava provando in questo momento non si vede ah peccato io ho messo in condivisione ve la manderò è una foto che si vede il sorriso appunto di Flavia che immagino, spero corrisponde alla gioia che sta provando anche in questo momento grazie a tutti della pazienza di avermi ospitato ed ascoltato e un buon proseguimento di presentazione un abbraccio a tutti grazie Maurizio un abbraccio allora possiamo passare la parola al professor Giorda grazie buonasera intanto molti molti complimenti a Flavia che è una collega carissima che è bravissima sul tema delle migrazioni su cui ci siamo riconosciuti io ricordo il suo libro Immigrazione e territorio come il più bel libro che ho letto sulle migrazioni perché aveva quella densità di umanità che gli altri tendono a non inserire forse perché la considerano meno scientifica ma non io perché lavorando sul piano anche dell'educazione è in realtà anche una cifra mia e a me pare una virtù in più quindi devo dire che lo avevo apprezzato in particolare per questo aspetto di densità perché parlare di migrazioni come un fenomeno quasi guardandolo da lontano sembra quasi un modo di impoverirle e quindi non mi stupisce che uno sbocco di questo suo lavoro sia stato il passare direttamente su una narrazione su un registro narrativo che non è quello accademico ma è quello letterario e devo dire che è stata una sorpresa la lettura di questo libro perché ho cominciato a giucchiarlo ho detto vabbè me lo leggo un po' per giorno e poi in realtà non sono riuscito facilmente a staccarmi quindi è un libro che ho letto proprio come si leggono i libri che ti piacciono che ti entusiasmano dai quali non riesci a vuoi vedere quale sarà la fine perché è un libro come ha detto Piero Bevilacqua prima anche bene che è veramente un libro è veramente una vicenda narrata in modo letterario adulto e molto ben strutturato con dei personaggi che sono avvincenti in cui a volte ti identifichi anche o in qualche modo senti di prossimità tua e tutte queste vicende in fondo parlano di cose che forse in qualche modo hanno coinvolto la vita di tutti noi chi più chi meno chi lontanamente chi più direttamente perché intanto un po' tutti siamo migranti in qualche modo non c'è più molta gente in giro che per generazione e generazioni è rimasta nello stesso comune nello stesso paese movimenti, spostamenti anche solo perché c'è una costellazione familiare ci si sposa si conosce qualcuno che arriva da un'altra parte si mescolano le storie questo viene bene anche fuori da questa storia o anche non ci si capisce c'è questa questa lontananza che è una lontananza fisica ma che è anche una lontananza a volte psicologica una lontananza rispetto ai rapporti umani come quelli tra Costanza e Andreas mi pare il compagno che è un tema molto contemporaneo anche credo che riguardi tante vite contemporanee confrontate con le vite precedenti anche la vita della nonna e del nonno poi si scoprono delle cose rispetto anche al quadro più idealizzato che ne ha la nipote ma penso sia sempre così per i nipoti la vita dei nonni è felice poi scopri che dietro c'è stata una guerra ci sono stati lutti ci sono state sofferenze che altro che le tue e questa cosa viene fuori bene ecco mi pare in questo senso una storia che in qualche modo corrisponde anche a quella di non di tutti di tanti di noi in qualche modo un'altra cosa che che mi ha colpito li parlo un po' a ruota libera se mi permettete in questo senso un'altra cosa che mi ha colpito di questo libro è proprio questo tema che potremmo dire dei rapporti tra le persone e i luoghi che poi è forse un tema da geografi in questo senso su cui riflettiamo riflettiamo tanto e qui il registro narrativo che poi se vogliamo è veramente anche geografico per molti aspetti è quello di di narrare i luoghi attraverso le persone attraverso le vicende e quello che ne emerge molto affascinante ci dà una complessità del valore dei luoghi che altrimenti facciamo fatica anche a spiegare anche come geografi a volte non lo sappiamo ma è difficile convincere gli altri di questa densità di valori che hanno i luoghi per le persone perché non abbiamo forse non siamo stati capaci anche di tirare fuori una letteratura scientifica in grado di argomentare in modo adeguato su questa cosa quindi c'è un margine certamente anche di di lavoro ma il tema è davvero anche contemporaneo forse proprio per il fatto che tra globalizzazione e altri fenomeni oggi questo legame sembra più debole che in passato questo tema delle radici è stato detto anche prima ma che cos'è questa cosa delle radici abbiamo così bisogno delle radici poi arrivano abbiamo avuto degli antropologi che hanno molto hanno scritto libri intitolati contro l'identità addirittura e hanno portato una narrazione come dire negativa sul tema dell'identità poi adesso andiamo su questo tema specifico ma qui viene fuori cioè da un lato c'è un'identità generale politica potremmo dire ideologica che certamente è pericolosa e in qualche modo ci dobbiamo esercitare a decostruirla anche se ci attraversa ci attraversa come gli stati che hanno attraversato diversi le vicende politiche che sono raccontate i cambi di confine in questa in questa storia però c'è un'identità personale che invece è preziosissima e andrebbe sempre rispettata in pieno anche come un mistero che ci portiamo dietro e che andiamo a cercare di capire come come fa costanza un po' in tutto questo in questo racconto e che anche a volte ci portiamo come un dolore come qualcosa con cui dobbiamo negoziare di compromessi e nello stesso tempo qualcosa di indispensabile insomma viene tutto fuori questo secondo me dalla dalla narrazione di Flavia quindi è veramente un libro che ho letto volentieri e che consiglierei di leggere anche perché è ben scritto c'è un punto in cui alla fine la nonna si chiede ma in fondo qual è la mia terra verso l'epilogo e questa è veramente una domanda su cui potremmo fare un seminario perché intorno a questo tema che tra l'altro ogni tanto ho toccato anche in alcuni laboratori con gli studenti mi piace con i giovani lavorare su questo tema perché per loro è anche un tema importante e controverso e beh questa è veramente una domanda che in qualche modo ci portiamo ci portiamo dietro non è una domanda retorica una domanda credo che tutti ci chiediamo qual è la nostra vera terra dove vogliamo essere sepolti dove veramente c'è la nostra ci sono le nostre radici quasi sempre nei luoghi dell'infanzia naturalmente però allora che valore hanno tutti gli altri luoghi perché in ogni caso sappiamo anche anche la nonna dicendo questa cosa dobbiamo vivere oggi si dice ne qui e ora oggi è più importante di tutti gli altri ieri che abbiamo avuto però questi ieri sono anche presenti nella nostra quotidianità in qualche modo ci vengono dietro a me sembrano tutte cose che il libro fa emergere almeno a me sono venute in mente leggendo il libro quindi mi sono puntato queste cose poi ogni libro parla al nostro vissuto e quindi queste sono anche le mie domande che mi porto dietro a volte nella mia nella mia evoluzione nella mia quotidianità poi c'è un discorso più ampio quello di Trentini delle vicende anche di una collettività più ampia non solo della storia personale e familiare e siamo immersi anche in parte in quella roba lì di cui oggi forse siamo meno consapevoli di un tempo cioè c'è stato un tempo in cui anche la retorica politica ideologica portava molto di più identificarsi in un popolo in una nazione in una comunità ecco oggi questi legami sono un po' un po' sfilacciati forse il fatto che siano sfilacciati da un lato ci rende più liberi dall'altro anche più inquieti e quindi ci interroghiamo su che valore abbiano ci interroghiamo su che valore abbiano anche di fronte ai migranti contemporanei che attraversano il Mediterraneo che attraversano l'Asia verso l'Europa che vanno da varie parti del mondo verso altre parti che ben conosciamo e che si portano dietro tutte tutte queste cose ci aiuta anche un po' a pensare al valore delle persone ecco io credo che nella decostruzione della retorica anche politica bruttissima che abbiamo sul fenomeno migratorio una via d'uscita è proprio quella di vedere il valore delle storie personali perché la storia personale non è qualcosa che possiamo né giudicare né attaccare né generalizzare ecco su categorie di buoni cattivi amici nemici e tutto quello che poi sentiamo banalmente a volte da una certa politica soprattutto ma sappiamo che sono cose che serpeggiano nella società ecco è qualcosa che in qualche modo dobbiamo rielaborare ancora probabilmente insieme e in questo Flavia ci aiuta moltissimo ma da molti anni insieme al rielaborare le esperienze migratorie italiane perché noi tutti parliamo molto del presente e poco del passato magari c'è una storia migratoria importante nelle famiglie di tutti ma poi quello su cui ci soffermiamo è sempre l'ultima notizia che arriva dalla televisione ecco nella storia italiana c'è un fenomeno migratorio imponente che va dall'unità d'Italia ma solo perché è da lì che nasce il nostro paese e arriva fino alla fine degli anni 50 anche qualcosa ancora un po' dopo e che stai cominciando con numeri non piccolissimi in questi ultimi ultimi anni e quindi ne abbiamo ulteriormente proprio bisogno fa parte di quelle cose che a volte tendiamo un po' rimuovere non è dimenticare a come dire rimandare perché dobbiamo farci conti anche eticamente e con storie personali familiari che a volte sono di successo a volte sono anche di dolore con questo la letteratura ci può aiutare molto io mi fermerei qua però vorrevo ringraziare anche Flavia dell'invito a presentare questo libro poi non so se c'è spazio per altri interventi ma sono molto contento di averla seguita in questa sua anche crescita penso di scrittura e di lavoro sulle migrazioni che restano il suo tema e lo si vede benissimo e qui forse è riuscita anche a dare spazio a una parte della sua profondità che più difficilmente si può mettere in un discorso accademico per un limite del discorso accademico che magari un po' per volta riusciremo anche a modificare bene molte grazie del suo intervento e adesso possiamo passare la parola a Paolo Perotto vediamo se si sente si ti sentiamo si ti sentiamo Paolo d'accordo siamo lieti che anche tu sia qui stasera con noi perché anche con te come con Maurizio abbiamo diciamo utilizzato la tua esperienza e il tuo aiuto prezioso per la realizzazione di quella mostra e non solo che facemmo nel 2010 in quello che allora era il nostro dipartimento all'ex istituto di geografia alla facoltà di lettere della sapienza Paolo Perotto è un discendente di una famiglia trentina emigrata in Bosnia e arrivata poi nell'agropontino e possiamo dire che è colui che conserva e trasmette alle generazioni future la memoria pressoché misconosciuta hai più di questa vicenda e a te Paolo la parola Sì vediamo se riesco è chiaro che non riuscirò ad essere né molto obiettivo e neanche molto accademico e neanche molto colto l'unica cosa che posso garantire che io mi sento parte coinvolta totalmente nella nella corsa di questa scrittura di questo libro di questo romanzo perché per me è un po' troppo coinvolgente è un po' troppo emozionante ed è anche un po' troppo direi qualche volta è stato mentre ho letto anche commovente per cui cercherò di mandare giù magari qualche nodo alla gola che mi verrà però cerco di essere un po' più freddo possibile sicuramente non sarò all'altezza degli altri interlocutori però dirò qualcosa dal di dentro di questa storia perché questa storia è la nostra storia questa storia è la storia della nostra comunità ed è una storia che non lo so perché ma che Flavia è riuscita in qualche modo a immedesimarsi ad entrare in un modo così completo che quasi mi ha sorpreso perché al di là della sua anche al di là della sua cultura ma anche al di là della sua umanità è stata una grandissima sorpresa una grandissima e positiva sorpresa trovare una persona così che è riuscita ad entrare in questa storia e raccontarla poi la grandissima fantasia che mi ha un po' sconvolto direi personalmente è stata questa sua capacità di inserire una storia creata dalla sua fantasia dalla sua inventiva inserirla così bene così in modo coinvolgente che insomma io posso dire tranquillamente in due giorni mi sono letto il libro dalla prima all'ultima parola perché ci ha un po' un po' troppo coinvolto io ho notato che la prima parte mentre leggevo la prima parte del libro mi dovevo fermare un attimo perché era troppo emozionante in quanto ogni suo passaggio ogni suo periodo ogni suo intervento sulla storia di Maureano è stato un intervento su cose che io ho vissuto che io ho calpestato su luoghi che io ho visto ho toccato con le mie mani per cui non è stato possibile non sentirsi trasportati fino a questo punto anche perché l'ha detto Esther prima anche perché io mi sento in qualche modo non meritevolmente ma mi sento un pochettino di rappresentare tutta la comunità e quindi è quella comunità che ha dato il là a Flavia di completare questa bellissima opera questa opera che ci ha un pochettino coinvolto in modo assoluto quindi la prima parte a parte che ho letto le prime cento pagine quasi tutte di un fiato perché fra l'altro ho trovato che anche tecnicamente lo dico io che non sono in grado di giudicare sotto l'aspetto culturale e formale ma sono state scritte in un modo talmente scorrevole talmente piacevoli da leggere che non sono riuscito a fermarmi ho fatto ore e ore mezza nottata e quindi questa cosa è stata un po' come si può dire il battesimo nel libro il battesimo della comunità l'investire la comunità in questo libro questo ci è stato come si dice spinto dalla sua fantasia e dalla sua voglia ci è stato spinto nella mente a considerare proprio una cosa nostra poi certo Zelda ha interpretato moltissimo benissimo la nostra gente i nostri anziani la nostra come si dice la nostra memoria una cosa è un operato non ricordo il nome del primo interlocutore che ha fatto una piccola chiosa sul fatto della cultura un po' eccessiva riversata su Zelda io quel concetto lì anch'io l'ho notato un pochettino non in senso negativo però ho notato da dentro da dentro ho notato che con la mia mente andavo a cercare qualche nostra anziana che potesse tenere il passo col discorso con costanza il discorso con una laureata quindi con una molto volta e fra le nostre anziane forse non c'era quello perché i nostri figli i figli della nostra comunità hanno cominciato a avvicinarsi alla cultura dagli anni 60 70 in poi e quindi lei investe molto di ha investito molto di più anche un ruolo che forse è eccessivo sotto l'aspetto culturale per lei ma è stato determinante e importantissimo per portare anche in costanza alla parte finale all'epilogo del libro quell'epilogo che ci ha un po' sconvolti che non so devo soltanto ringraziare Flavia di aver avuto una intuizione un modo di inventarsi un rapporto così grande come quello che è stato quello fra Franz e Zelda che è stato un rapporto inimmaginabile per uno che conosce la nostra storia e che ha vissuto la nostra storia inimmaginabile di trovarlo sulla strada della lettura non immaginabile dopo nella riflessione perché nel riflettere queste cose su queste cose è successo che questi fatti sono veri sono avvenuti sono verissimi lo stesso mio nonno Giulio il papà di mia mamma ha sposato una della colonia di Rudolstall di Alessandrovac come si chiama adesso e quindi questa donna che si chiamava Caterina Stinfeld Caterina Stinfeld che era di ora ha incontrato questa donna e l'ha sposata e hanno avuto anche loro una montagna di guai però si è sposata i primi quattro figli sono morti in una settimana nel periodo tragico delle morti giovanili delle morti diciamo dei giovani i nostri figli dei nostri dadri per cui storie vere queste qui e quindi riflettendo dopo è stato diciamo facile capire che non è andata per sbaglio non è che ha fatto chissà quale errore o un'invenzione trovata in Australia è un'invenzione trovata proprio a Mauriani e la storia di loro due è una delle storie vere di quelle famiglie perché io ricordo quattro sorelle di mia nonna hanno sposato quattro persone di Mauriani quindi era la nostra comunità quindi sono cose vere successe per cui è stata una cosa molto molto importante io devo soltanto aggiungere una cosa che la mia comunità io ho allargato un po' con la voce in una giornata ho avuto centinaia e centinaia di ok e di voglia e di richiesta anche del libro per cui è un qualche cosa che investe una comunità in un modo importantissimo è vero che noi abbiamo rappresentato e scritto di questa storia della nostra comunità però è una storia come dicevano gli interlocutori di prima è una storia che è poco conosciuta pur essendo una storia straordinaria della doppia immigrazione di cose mai viste noi cercheremo di tenerle in piedi il più possibile cercheremo di dare più sostegno a chiunque come Flavia ha avuto il coraggio e la voglia e la passione di seguire questo fatto di seguire questa immigrazione e di metterla proprio su un romanzo senza troppe invenzioni senza inventarsi cose stranissime ma l'unica cosa è inventata è stata una storia strabiliante e bellissima che ha arricchito anche la storia della nostra comunità io mi fermo qui vi ringrazio e ringrazio Flavia di aver messo su questo piedistallo anche con un libro del genere con un romanzo del genere anche la nostra comunità e speriamo che poi sia tutto di aiuto per farla conoscere perché vale la pena non perdere queste queste memorie grazie 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 per questo appassionatissimo intervento e possiamo chiamare l'editore di questo volume del romanzo il dottor Virginio Sala ecco mi vedete sì sì la vediamo buonasera che cosa posso dirvi io avete detto già quasi tutto beh sono contento che l'abbiamo prodotto questo libro tanto per cominciare mi sembra che meritasse mi sembra interessante in generale questa forma di inserimento all'interno di una narrazione di fantasia di una parte storica perché è un bel modo di raccontarla di renderla presente sapete che Tarka come editore sta in Lunigiana che è una delle regioni che dal punto di vista dell'emigrazione ha significato parecchio e sta a Mulazzo che è il comune in cui oggi si trovano i paesi di Parana e di Montereggio che sono i paesi da cui partivano i famosi librai pontremolesi quelli con le ceste andavano in giro per l'Italia a portare libri e poi hanno dato origine ai bancarellai alcuni di loro hanno persino passato l'oceano e sono andati a fondare case editrici in Argentina per esempio c'è una case editrice argentina che è stata fondata da librai pontremolesi quindi c'è anche come dire ci sta bene nel nostro catalogo un libro del genere perché siamo vicini abbiamo una attenzione cerchiamo di avere molta attenzione per queste cose per la memoria di storie episodi storici e ci piace anche che stiano dentro a una narrazione diversa perché lo ripeto è anche un bel modo di avvicinare le persone in maniera indolore come dire se gli dai un libro di storia storco nel naso magari invece dentro un romanzo comunque impari qualcosa poi c'è sempre magari nasce la curiosità dalla curiosità può venire fuori qualche altra cosa quindi bene sono contento che l'abbiamo pubblicato e mi sembra che meritasse effettivamente quindi bene sono contento che altro dire buona fortuna all'autrice e al libro bene grazie e last but not least forse può intervenire anche l'autrice certamente intanto grazie a tutte e a tutti intanto grazie alla società geografica che ci sta ospitando grazie ai miei splendidi amici oratori che mi hanno accompagnato lungo questo percorso grazie Paolo perché la tua umanità traspare me l'hai trasmesso tanto di quello che ho scritto io l'ho imparato da te quindi grazie davvero avete in parte raccontato un po' come è nata questa opera però per chi non ha messo insieme tutti i punti lo racconto sottolineando appunto il ruolo dell'universo come diceva Maurizio prima io credo molto nelle sincronicità e io non volevo fare questa ricerca non volevo studiare l'emigrazione di fine ottocento dal trentino Esther spingeva perché diceva dai sì facciamo questa ricerca insieme facciamo un convegno e io non l'avevo mai studiato questo argomento quindi sinceramente volevo defilarmi lei è stata molto assidua nel dirmi dai Flavia sì ma allora hai deciso insomma la cosa è andata avanti devo dire forse anche due mesi Esther hai avuto la costanza fino a che un giorno messa alle corde ho detto vabbè basta domani ho ricevimento studenti se viene qualche studente e vuole fare una tesi la facciamo insieme studiamo questo argomento vediamo il giorno dopo arriva un mio studente che già aveva una tesi con me e che però mi dice aveva ragione lei prof l'argomento che ho scelto in realtà non va bene sono disposta a questo punto e a cambiare e a fare qualsiasi cosa lei voglia a quel punto diceva bene ok allora imbarchiamoci in questa avventura siamo andati al ministero abbiamo avuto accesso a questo enorme materiale e da lì sono nate fuori storie e tra le quali abbiamo scoperto i ester questa storia sconosciuta della Bosnia storia di cui veramente non sapevamo nulla quindi ho chiamato l'amico della Trentina nel mondo dicendo Maurizio ma tu ne sai qualcosa conosci qualcuno in Bosnia e lui mi dice ma dire il vero no non molto neanche noi sappiamo però guarda tra una settimana vengo a Roma ci sentiamo devo andare in pianura Pontina magari lì qualcuno sa qualcosa per cui andiamo a cena in pianura Pontina con degli altri amici e c'era il proprietario del ristorante non so se mi sta sentendo Gianni al quale io come niente fosse dico ah io sarei interessata a studiare questo argomento ho saputo che voi forse potete conoscere qualcuno i trentini di Bosnia dell'agro Pontino e lui mi fa aspetta un attimo quindi tra una pizza e un'altra a un certo punto torna e mi mette in mano una tesi di laurea sui trentini che erano emigrati in Bosnia dico no ti prego non è possibile in una pizzeria spersa nella pianura Pontina di notte mi trovo questa tesi in mano come fosse un dono dicetela presto dice vuoi parlare con il presidente dell'associazione e gli dico certo nel giro di pochi giorni avevamo l'appuntamento e gli ester siamo andati abbiamo conosciuto Paolo che gentilmente ci ha prestato del materiale insomma ci ha coinvolto sempre di più in questa storia io mi sono veramente appassionata però ero curiosa no? perché dico caspita ma io in Bosnia ci voglio andare voglio andare a vedere questa Mauliani ma come sarà? e questo desiderio è stato lì che è rimasto dentro di me a un certo punto credo forse dopo un paio d'anni non lo so un bel giorno Maurizio dalla Trentina del Mondo mi chiama e mi dice Flavia noi tra una settimana andiamo in Bosnia per una cerimonia e passeremo per Mauliani ti invitiamo vuoi venire? ho preso il treno sono montata sul transit ci siamo fatti ore e ore e ore di pulmino il giorno dopo stavo in Bosnia ho visto Mauliani mi sono emozionata ho visto la chiesa ho visto quei luoghi dei quali avevo studiato avevo visto dei documenti avevo letto qualche cosa qualche lettera il vederlo vedere gli alberi vedere la terra immaginarmi queste terre calpestate per cui sono ritornata poi a Roma ancora più ricca ho detto no io devo scriverla questa storia ci ho messo anni proprio tanti e tanti anni scritture riscritture ho imparato ho cancellato Piero ne sa bene qualcosa perché lui pure scrive non l'ha detto ma anche lui scrive poesie scrive libri sceneggiature per il teatro ecco perché ci ha invitato a renderlo poi una piessa teatrale io ci vedo bene anche un film a me piacerebbe enormemente poterci fare un film vediamo chi lo sa come dico io se l'universo vuole sarà e quindi insomma ci sono state una serie di coincidenze sincronicità talmente strane talmente particolari che io so che questa storia doveva essere scritta doveva essere raccontata e quindi spero che questo libro venga letto questo libro venga letto anche dalle diverse generazioni perché ognuno di noi può trovarci dentro come diceva Cristiano prima delle rispondenze personali qualcuno che poi ci si identifica si può identificare in un piccolo personaggio nel grande personaggio in un luogo in un processo e quindi dico solo grazie a tutti voi e grazie per questa lettura grazie ecco l'emozione di Paolo capisci che tu mi entri nel cuore e io cioè scrivere qualche cosa per poter donare un'emozione a qualcuno cioè mi metto a piangere anch'io adesso non vale Esther a te chiudi non ti sentiamo bisogna bisogna forse ricordare che è una storia di donne sia come dire per la cucina la cucina scientifica tra te ed Esther no che sottostà all'ideazione alla ricerca e alla ricerca archivistica e all'ideazione del romanzo sia per le protagoniste del romanzo medesimo grandeggiano la nonna e naturalmente Costanza di questi tempi diciamo mettere in primo piano la vicenda delle donne mi pare molto importante da più punti di vista come sappiamo bene scrittura al femminile certo sì c'è qualcuno che desidera intervenire bene allora forse possiamo chiudere qui aspetto ho sentito una voce sì sono Paolo sì Paolo poi credo che avremo occasione di risentirci perché a nome della mia comunità già siete invitati te e Esther gli altri siete già invitati da noi per fare la presentazione in presenza alla nostra comunità speriamo soltanto che si sbrighi questo virus a darci libertà e mi hanno tantissimi chiesto come mettersi in contatto quindi tenetevi pronte che appena il Signore permette o l'universo come dice permetterà noi ci troveremo sicuramente di nuovo insieme con la comunità con tutti i nostri molto volentieri figli e nipoti grazie benissimo fa piacere molto anche a me ecco Gianni io l'ho visto lo vedo lo vede lui che mi ha dato la tesi nella pizzeria come se fosse così un dono sceso dal cielo il dono di Natale anche se era d'estate Gianni non ti sentiamo no non ti sentiamo ciao bene allora grazie a tutti penso che abbiamo passato insieme un pomeriggio molto interessante ricco di stimoli ma anche di emozioni e la storia è anche questo la storia è anche questo e speriamo che finalmente molti si rendano conto che la storia non è solo una sequela di date è un fatto noioso perché la storia quella con la S maiuscola è sempre una storia fatta dalle storie di tante persone anche la geografia ma certo ma la storia e la geografia vanno a braccetto perché qui c'è il tempo in questo libro ma c'è anche lo spazio e sono andati di pari passo l'uno non ha potuto essere senza l'altro e questo Flavia ce l'ha fatto vedere in maniera esemplare allora grazie ancora e grazie a tutti grazie grazie a te Flavia ciao a presto grazie 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 complimenti a voi buonasera buonasera grazie